Salve a tutte ragazze e ben giornate in questo video. In questo video vi voglio mostrare una cosa. Prima di tutto questo gufetto. Ah scusate l'outfit casalino. Anche in una versione bruttissima casalino. Molto 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 casalino. Sono da fare la prova da sforzo. Ma ovviamente non bisogna. Niente, in questo video vi voglio far vedere come strucco, come poter struccare un trucco molto pesante. L'ho fatto ora per far vedere tutto. Allora, ovviamente terrò solo il rossetto. Cosa ci occorre? Ci occorre una crema. Crema, coton fioc e carta igienica. Cosa facciamo? Prendiamo la crema. La apriamo. Prendiamo un coton fioc. Con il coton fioc andremo a prendere la nostra quantità di crema. Quindi, come potete vedere, la crema è tanta. La crema è tanta. Quindi, ora metto lo zoom. Non metto il zoom perché ho messo la modalità. Vabbè, con il coton fioc e vado a stendere bene tutta la crema. Guardate che. Ci ho fatto proprio un trucco di cacca. Ci ho messo ombretti e basta. Quindi, vedete che l'ho applicato molto. E' una nuova notizia bellissima. Oh, sì, sembra un pagliaccio. E questa è una notizia molto bella. C'è rotto il nome, c'è rotto. Esploso. E niente, vado a fare questo gesto. Non dovete mai aprire l'occhio, eh. Cioè, non lo aprite mentre vi struccate. C'è rotto il suo sentimento. Allò, ecce. Chacuata lì. Li asciughiamo con un tessuto leggero e buon. I nostri occhi sono scioccati, sono rimasti sbagliati perché non li ho scioccati bene. L'occhio non è per niente rosso a parte i capillari. Niente. Salut, ciao, ciao, io sarò. Metà dietro. Ci facciamo tutte quante un salto. Oh, oh, casco. Allora, se vedete quel capetto suicidato, il crema, lo specchio. Ciao Giulia. E... Niente, spero che questo video vi sia realmente piaciuto. Guardate. Lo sguardo. Chi c'è attorno a me? Ok, adesso... Bene, un attimo di sguardo. Quindi... Un bacione! Da me. Che mi passa a fare le mie scemi. Vi do veramente un saluto grosso. Spero che vada tutto a posto. Spero che non vi bruciano gli occhi. O meglio, sinceramente. Vi vi mando un grosso bacio. E vi saluto e al prossimo video. Giumballero. Giumballalala. 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 A me sta registrando. Ciao. Giumballalala.